La colpa vera che mi sento di avere è quella di non aver rifiutato, invece anche noi l'abbiamo utilizzato, il problema è come si utilizzano. C'è un problema dei costi. Funziona allo stesso modo anche per voi l'assegnazione dei contributi, Montino? Nel stesso identico modo, sì. No, vengono messi a disposizione dei gruppi sulla base di un parametro che è uguale per tutti quanti, poi sulla base di questo naturalmente ogni gruppo li spende come ritiene di spenderli. Fermo restando naturalmente che non sono cose private, non è che posso prendere i soldi, io tra l'altro neanche li amministravo perché noi abbiamo un tesoriere che si prendono i soldi e si utilizzano e mandandoli magari comprando questo o quell'altro. No, noi abbiamo fatto, online ci sono tutti i nostri bilanci, c'è il nostro bilancio 2011, è proprio online, lo sanno tutti e i giornali l'hanno pubblicato tantissime volte.